Musica Saranno tre gigantesche opere modellate lungo il filo conduttore del viaggio, tema a cui si ispira quest'anno la 48esima edizione, a sfilare in occasione del Gran Carnevale di Maiori che si svolgerà dal 7 al 15 maggio nella cittadina della costiera Amalfitana e per l'occasione è prevista anche un importante joint venture con alcuni dei carnevali storici d'Italia come Veareggio, Foiano della Chiana e Palma Campania che domenica saranno in costiera per miscelarsi con le loro coreografie alle muschie e i colori della festa maiorese. Due sfilate, due weekend di festa e una serie di eventi predisposti celebreranno a partire da oggi questo insolito carnevale di primavera, peraltro in una costiera Amalfitana affollata di vacanzieri. E così Maiori si appresta a portare in strada balletti e carri allegorici che i maestri della cartapesta della cittadina costiera hanno realizzato lo scorso inverno, mostrando così ai tanti turisti, soprattutto stranieri, la sua meravigliosa tipicità. La festa per il 48esimo Gran Carnevale di Maiori prenderà il via oggi sabato 7 maggio alle ore 18 a Palazzo Mezzacapo con il gioco a quiz se lo sai rispondi e a seguire l'esposizione dei carri allegorici al porto turistico. Il programma di eventi proseguirà domani mattina con il trasferimento dei carri allegorici in via Nuova Chiunzi a partire dalle 11.30 e alle 16.30, prima della sfilata a concerto della US Naval Forces Europe and Africa Band sul lungomare di Maiori. Il Gran Carnevale poi tornerà sabato 14 e domenica 15 maggio. Tra gli eventi inseriti nella manifestazione anche il primo torneo di calcio Gran Carnevale di Maiori che si svolgerà presso lo stadio San Martino e sarà riservato agli Under 17. I due weekend di festa si concluderanno come sempre con la premiazione dei carri e dei gruppi di ballo. Per l'occasione la Travel Mar nei giorni 8 e 15 maggio ha predisposto per le 20.30 una corsa aggiuntiva via mare da Maiori verso Salerno confermate intermedie a Cetara e Vitri sul mare.